Il Movimento 5 Stelle ha presentato la denuncia per la messa e stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Polemiche, attacchi, insulti e infine la denuncia ufficiale. Alle 10 del mattino è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Vincenzo Sant'Angelo, ad annunciare l'impeachment nell'Aula per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Un atto che Beppe Grillo aveva promesso più volte, sia durante il controdiscorso di fine anno e dal palco dell'ultimo V-Day a Genova lo scorso dicembre. Tale impeachment dovrebbe istituire il complesso procedimento previsto dall'articolo 90 della Costituzione che prevede la non responsabilità del Capo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Carta Costituzionale. Il Presidente della Repubblica è chiamato in causa per il suo ruolo attivo nella trattativa Stato-Mafia e per le pressioni che, dopo le telefonate dell'ex ministro Nicola Mancino, avrebbe compiuto per unificare i binari investigativi di Firenze, Caltanissetta e Palermo. Le prossime tappe della resa dei conti saranno l'esame del Comitato per i procedimenti d'accusa di Camera e Senato e l'eventuale voto in un Parlamento convocato in seduta comune. Ieri la Procura di Roma ha avviato un'inchiesta in merito alle frasi pronunciate dal pentastellato Giorgio Sorial, accusato di Villipendio, che ha duramente attaccato Napolitano, definendolo boia che cuce la bocca e taglia la testa alle opposizioni.